Ma io posso solamente dire che ogni volta che scendo in campo, sia prima con Zauli, poi con Nofri e adesso di nuovo con Zauli, entro in campo cercando di dare sempre il mio 100%. Credo di esserci riuscito in alcune gare, in altre meno, ma insomma il mio impegno non mancherà mai perché il mio lavoro e la mia passione è la cosa che amo di più fare. Quindi il mio obiettivo è sempre quello di dare il 100% per la squadra e spero di riuscirci sempre di più. Dopo che veniamo da una buona prestazione come Parma è il momento di dare un po' di continuità perché ogni volta che facciamo una buona gara poi tendiamo sempre a mollare un po' e questo non deve assolutamente accadere. E cerchiamo di dare questa continuità già nella prossima partita in casa contro la Feralpi, sperando di trascinare anche il pubblico con noi, nonostante ci sostenga sempre e ci dà sempre il loro tifo. Adesso sta a noi tirare fuori gli attributi. Adesso siamo molto più vicini con le altre squadre, però in questo momento credo che mancano tre partite fondamentali prima del nuovo anno e bisogna concentrarsi molto su noi e sulla nostra voglia di risarrire la classifica senza guardarsi troppo a chi abbiamo sotto e a chi abbiamo sopra. È giusto che non siamo in un momento così facile, penso che pensiamo a noi e portiamo più punti possibili in queste tre giornate. È una squadra in questo momento che sulla carta è più forte di noi perché occupa la zona più alta della classifica rispetto a noi, però come ho detto non pensiamo troppo agli avversari, ma dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto con il Parma, a quella determinazione, a quella voglia di portare un buon risultato e più punti possibili.